Musica Nuovo appuntamento con Dica33, il medico risponde. Di nuovo nei nostri studi la competenza e la professionalità del dottor Paolo Cascavilla. Bentrovato dottor Cascavilla, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora abbiamo affrontato tanti argomenti nel corso di queste nostre puntate insieme. Abbiamo parlato del fumo, abbiamo parlato di disturbi psicosomatici, del mal di schiena e anche dell'importanza dell'attività fisica che spesso ritorna nelle nostre conversazioni. Attività fisica che a volte fa anche rima con alimentazione corretta, sana. L'alimentazione sana potremmo dire è proprio la base, le fondamenta del nostro benessere. Allora, quali sono le regole fondamentali per non fallire questo obiettivo dell'alimentazione sana? Sì, le regole principali si riferiscono soprattutto alla nostra condotta di vita. Nutrirsi significa fornire all'organismo quegli elementi di cui ha bisogno nella giusta proporzione e quantità per sostenere le nostre funzioni vitali, ma anche per conferire a noi quell'energia di cui abbiamo bisogno, ma anche lucidità mentale, ma anche un corretto funzionamento intestinale, del transito intestinale. Quindi è fondamentale questo. Oggi viviamo una sorta di contraddizione che ci allontana da quel rapporto vitale ed equilibrato che ci garantisce benessere ed efficienza. Una contraddizione quindi che ci allontana da questi obiettivi dovuta a un conflitto che abbiamo col cibo e col nostro corpo. Dalla mancanza o dall'eccesso di cibo derivano molte patologie. Dalla carenza si verifica un impoverimento, una carenza drastica del nostro corpo, un impoverimento di sostanze nutritive, un indebolimento globale molto pericoloso. Dall'altra parte l'iperalimentazione che ci porta verso patologie quali ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari. Sono due poli opposti che bisognerebbe evitare. Le regole fondamentali sono queste. La prima cosa è fondamentale, la colazione. Molti studenti saltano la colazione. È sbagliato perché proveniamo dal digiuno notturno, abbiamo bisogno al mattino di un carico di energie, soprattutto per gli studenti, che hanno bisogno di un surplus di energie, di lucidità a scuola. E poi la prima colazione ci consiede di non sfassare il metabolismo successivo perché noi dovremmo utilizzare cinque pasti al giorno. Mi spiego, tre principali e due spuntini. Perché questo consente al nostro organismo di bruciare tutte le energie, di entrare in pareggio tra le entrate e le uscite. E non accumularle. Il cosiddetto monopasto non va bene perché si rischia di rallentare il nostro metabolismo. Il nostro corpo va in cosiddetto modello carestia. Lo andiamo a sfasare. E quindi rallentando il metabolismo si verifica un aumento dei depositi di sostanze nel nostro organismo. Dottor Cascavilla, noi siamo passati però dal cibo della nonna, della mamma, quello casalingo, buono, autentico, al cibo industriale che è spesso per comodità, per velocità, al quale spesso facciamo ricorso. E immagino che molti pazienti si siano rivolti a lei per consigli alimentari. Come ha soddisfatto le loro richieste? Sì, innanzitutto vanno informati che il cibo industriale trasforma un po' i nostri alimenti, quindi sono poco riconoscibili dal prodotto di partenza. Nelle mani dell'industria il chicco di grano, per fare un esempio, nasce ricco e muore povero. Rimane ben poco di quegli elementi nutritivi di cui era ricco all'inizio. Perciò è molto importante sapere queste cose, che la lavorazione industriale provoca questo impoverimento dei cibi. Quindi, dovendo dare dei consigli, dobbiamo essere qui molto chiari. Vogliamo che la nostra alimentazione sia il più possibile consapevole da distratti consumatori a consapevoli consumatori. E in questo ci possono aiutare le cosiddette tabelle nutrizionali. È molto interessante questo argomento. Tabelle nutrizionali, etichette anche alimentari. Allora, visto che dobbiamo essere consapevoli e non distratti, dottor Cascavilla, mettiamo in grado i nostri telespettatori di orientarsi al supermercato, quando bisogna scegliere un pacco di biscotti, un pacco di cerali, qualsiasi cosa. Come orientarsi in questa giungla delle etichette? Innanzitutto, una cosa semplice, leggerle le etichette. A volte è scritta troppo piccola. Non mettere subito. E un'altra cosa importante è confrontare etichetta con altre etichette, perché lì riusciamo a capire. Ogni etichetta è basata convenzionalmente su 100 grammi di prodotto. Certo. Allora, partiamo. I grassi. I grassi, tutto è essenziale per la nostra alimentazione. Anche quelli. Però, sotto la voce grassi, c'è una seconda riga. È lì che dobbiamo porre attenzione. Perché lì ci dice quanti grassi saturi ci sono in totale. Perché i grassi saturi sono quelli nocivi. Meno ce ne sono, è meglio è. Quindi confrontare i prodotti. Stessa cosa per i carboidrati, che sono zuccheri. Una miscela di zuccheri. Ma se vogliamo sapere quanti zuccheri semplici, quelli, tra virgolette, tossici, ancora una volta dobbiamo andare alla seconda riga, dove c'è scritto quanti zuccheri semplici ci sono in quelli totali. E qui facciamo un esempio. Se l'etichetta mi dice che il prodotto contiene 50 grammi di carboidrati, ma 10 di zuccheri, allora la cosa ha un certo... È bilanciata. È bilanciata, diciamo. Se invece mi dice carboidrati 50, è la seconda riga, di cui zuccheri 48, allora sono quasi tutti zuccheri, molte bevande addirittura nel 100% di zuccheri. Cosa fanno questi zuccheri semplici? Passano velocemente nel sangue. Determinano un innalzamento alle stelle di insulina che ci provoca subito un drastico calo di zuccheri, andiamo in ipoglicemia e abbiamo di nuovo fame. E poi non dimentichiamo che l'insulina, tutto quello che trova, porta nelle cellule aumentando i deposi. Quindi attenzione alla seconda riga. Poi le proteine. Le proteine, c'è poco da dire, sono anche un elemento essenziale. Il 15% della nostra alimentazione dovrebbe essere di proteine. un 30% di grassi, un 60% di carboidrati. Abbiamo detto le cose che devono essere usate con parsimonia. Adesso vediamo nell'etichetta nutrizionale, ci sono altre due cose. Il sale, il sale anche, deve essere poco rappresentato, perché noi ne ingeriamo il doppio di sale, di quello necessario. Perché? Perché il sale, l'eccesso di sale, determina aumento della fame e aumento di sete. E quindi molti placano la sete bevendo bevande zuccherate e quindi peggiorano la cosa. Invece per quanto riguarda le fibre, devono avere un alto contenuto di fibre, leggete le etichette nutrizionali. Perché l'aumento delle fibre, oltre che regolarizzare il nostro sistema e apparato digerente, limita anche l'assorbimento di sostanze tossiche. Non mi riferisco solo al colesterolo nocivo, ma anche a quella quantità di prodotti che iperalimentando ci ingeriamo, mi riferisco ai prodotti trattati in campo agroalimentare, con pesticidi o altro. Ecco, le fibre consentono di ridurre questo introito. Infine, lascerei sotto l'etichetta nutrizionale una riga vuota. Riempiamola, facciamo il pieno di antiossidanti. Gli antiossidanti sono rappresentati in tutti quegli ortaggi colorati, si parla di alcobaleno della salute, e quindi sono molto importanti, e anche nella frutta. Ecco, fondamentale. Proprio una cosa che non di frutta e verdura non devono mai mancare sulle nostre tavole. Quindi leggere le etichette e confrontarle. Quindi, come diceva lei, non prendere la prima cosa che ci capita sotto mano, la buttiamo nel carrello della spesa. Leggere e confrontare. Essere dei consumatori consapevoli e non distratti. In conclusione, dottor Cascavilla, abbiamo 2-3 minuti. Immagino che spesso nel suo studio vengono tante persone che vogliono e devono dimagrire. Ok, mettersi a dieta però a volte fa sempre un po' paura e si fallisce. Qual è il segreto, se c'è un segreto, per riuscire nella dieta? Io direi che chi va dal nutrizionista ci deve andare col piede giusto. Cioè, non vedere il cibo in modo conflittuale, non vedere quella dieta come un percorso di sacrifici, di rinunce, di limitazione. È già una strategia sbagliata questa. Invece noi dobbiamo avere con l'alimentazione un rapporto amichevole, equilibrato. Ricordo che dieta nella cultura classica, la cultura classica è uno scrigno di saggezza, valida per tutti i tempi. Nella cultura greca dieta significa abitudine di vita, condotta di vita, costume di vita, un'abitudine da acquisire nel tempo. Quindi ci induce ad avere un rapporto diverso e un concetto molto più ampio della dieta che noi siamo abituati a interpretare come limitazione o come un periodo, diciamo, parziale o temporaneo. No, deve diventare un'abitudine costante di vita. Perché nel cibo noi troviamo anche gusti, sapori, emozioni, convivialità. E quindi avere un rapporto amichevole ed equilibrato col cibo contribuisce anche a rendere più gustoso il senso della nostra vita. Grazie per questi messaggi importanti, dottor Cascavilla, che ci ha regalato il nostro ciclo di puntate. Dica 33, il medico risponde, termina qui, ma non è detto che magari con la prossima stagione autunnale ora facciamo il pieno di informazioni, caro dottor Cascavilla, possa tornare presto ad arricchirci con le sue informazioni, con i suoi consigli e con la sua competenza. Grazie per essere stato con noi, troverete questa puntata e anche le altre sul nostro canale YouTube di Padre Pio TV, playlist Dica 33, il medico risponde. Grazie e il nostro appuntamento prosegue, restate con noi.